salute i miei alunni ciao pepito di ciao giacomini miei diglielo ciao sono con la zia francesca salute i miei giacomini di gliele ciao ragazzi noi tutto bene guarda qui cosa faccio mangio il dita alla vostra prof salutemi i giacomini che poi c'ho tanti monellini in classe allora salutiamo la seconda è la seconda di poi salutiamo chi a chi salutiamo poi alla prima di e la terza di dell'ic5 e che fai mi dai un morso saluta mi dai il vecino di ciao 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 giacomini salute i miei giacomini ciao ragazzi guarda con chi sono sono con pepito che mi manda a salutare lui parla quando è da solo di solito ciao ciao